Un aiuto naturale per la cissite? Probabilmente l'hai già letto su qualche rivista o forse un farmacista te l'ha già consigliato. Parlo del cranberry, il mirtillo rosso americano. Sicuramente oggi il fritto estratto più utilizzato e apprezzato negli integratori per contrastare la cissite. Scopriamo perché è efficace il cranberry e quali sono i migliori integratori per contrastare la cissite. Ciao, sono Milena, la farmacista di Detective Salute. Il cranberry, il mirtillo rosso americano, è indubbiamente il rimedio naturale più consigliato per contrastare la cissite. Il suo potere principale è quello di riuscire ad impedire ai batteri di attaccarsi alle pareti della vescica. Il cranberry, infatti, contiene una miscela complessa di principi attivi, tra cui le pronto cianidine di tipo A, che hanno la capacità di ridurre l'adesività del batterio alla mucosa. In questo modo i patogeni, non riuscendo ad attaccarsi alla parete della vescica, sono più facilmente travolti dal flusso urinario e eliminati durante la minzione. Per riconoscere un ottimo integratore a base di cranberry, è importante verificare sulla confezione la titolazione in pronto cianidine di tipo A, a volte denominata con la sigla PAC. I migliori integratori per la cissite contengono un apporto giornaliero dichiarato superiore a 30 mg al giorno. Altri principi attivi utilizzati nei migliori integratori per la cissite sono l'uborsina, il rimedio per eccellenza della nostra tradizione erboristica, apprezzata per le proprietà diuretiche e disinfettanti, il dimannosio, un monosaccaride, utile per impedire l'attecchimento dei patogeni alla mucosa vescicale. Infine, tra i rimedi naturali più apprezzati troviamo i semi di pompelmo. L'estratto dei suoi semi è utile per favorire la fisiologica reazione nei confronti dei batteri uropatogeni, oltre a contribuire al bilanciamento della flora batterica di tutto l'organismo. Prima di svelare i due migliori integratori selezionati da Detectives Salute, ti ricordo che è importante bere almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno per contrastare efficacemente la cissite. E ora scopriamo insieme i due integratori per la cissite. Cranberry Cist della ESI. Componenti attivi. Cranberry, estratto titolato, apporto giornaliero in proantocianidine 40 mg, utile per impedire ai batteri uropatogeni di aderire alle pareti delle vie urinarie. Uva Orsina per l'azione disinfettante diuretica. Pompelmo semi per favorire la fisiologica reazione nei confronti dei batteri uropatogeni. Berga d'oro e Orto Sifon per l'azione diuretica. Cranberry Cist della ESI. 30 ovalette. Prezzo consigliato 17,50 euro. Ottima sinergia del cranberry con i semi di pompelmo in associazione a fitoestratti che favoriscono l'azione diuretica. Ed infine un ottimo rapporto qualità-prezzo. Cistinox forte di Laborest. Componenti attivi. Cranberry, estratto secco titolato, apporto giornaliero in proantocianidine 72 mg, utile per impedire ai batteri uropatogeni di aderire alle pareti delle vie urinarie. Dimannosio per creare un film protettivo sulle pareti della viscica. Noxamicina, un composto di bioflavonoidi estratti dalla propoli per favorire la fisiologica reazione nei confronti dei batteri uropatogeni. Cistinox forte di Laborest. 20 compresse al prezzo consigliato di 24,90 euro. Ottima sinergia del cranberry con il dimannosio ed elevata concentrazione in proantocianidine. Ricorda, per contrastare la cistite, scegliere un ottimo integratore è importante quanto bere molta acqua. E se vuoi sapere qualcosa in più sulla cistite, ti consiglio il nostro video Combattere la cistite senza antibiotici nel nostro canale Youtube o sul sito DetectiSalute.it. Gli integratori non sostituiscono una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano. Un saluto da Milena e se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al nostro canale Youtube.